si no è un lavoro duro ahah beh ma è vero che cioè se lui mi lascia la mia faccia nei video no? non sono perché non se non sono perlentarlo io se non sono perlentarlo io ho un bacco se non sono perlentarlo io no se non sono perlentarlo io che cosa? se lui mi lascia la mia faccia nei video eh gli posso ruota la collettorio io si eh mi devo preoccupare che cos'è? che cos'è? è ragioniere allora aspettatemi qua perchè non ha detto che eravamo sicuramente fatto come sta? è qua è là oh là è uguale ciao ciao